Ciao a tutti e bentornati a Sei che è in Puglia. Oggi vogliamo alleggerire il pensiero di quando in un prossimo futuro lontano abbandoneremo la nostra vita reale. Siamo in compagnia di Luigi Cafforio, titolare dell'agenzia funebre Eternity in inglese e in italiano Eternity. Luigi abbiamo tantissime cose da chiederti anche dai nostri iscritti al canale, quindi cominciamo subito dalla prima domanda. Quali sono le prime operazioni da fare? Buongiorno a tutti, un saluto agli amici di Sei che è in Puglia, grazie per questa opportunità. La prima cosa da fare quando viene a mancare una persona noi cara è quella di affidarci a un'agenzia di fiducia che provvederà nella massima serietà a portare avanti il discorso funebre per la persona noi cara. Luigi, e quali sono i servizi di media che offre un'agenzia o che dovrebbe offrire? Un'agenzia dovrebbe offrire tutti i servizi, dai necrologi, alla fornitura di fiori, al disbrigopratiche. Deve offrire tutti questi servizi che la persona che viene a mancare il proprio caro non può in quel momento assolutamente fare. Quando riceviamo una chiamata la prima cosa da fare è tranquillizzare la famiglia in modo da poterla stare a proprio agio e poi procediamo con la sanificazione e la vestizione della salva. Successivamente si iscrive il necrologico per poi poter fare l'affissione. Si organizza la funzione religiosa con la chiesa, se ci sta da fare il corteo, si organizza il corteo, la parte burocratica che comunque va fatta obbligatoriamente al comune, ufficio sanitario, al medico curante per l'estrapolazione della scheda Istat, alla soluzione del cimitero, se la sama va inumata, va cremata, ha un loculo di proprietà. Sono cose che è l'agenzia che deve consigliare e supportare la famiglia per quanto riguarda la funzione funebre. Dopodiché si invita la famiglia a venire in agenzia per poter scegliere innanzitutto la bara, il tipo di bara che si vuole offrire al proprio caro, se la salma deve essere cremata, va nell'oculo, il tipo di addobbi che bisogna mettere in casa, si stabiliscono tutte queste cose. Si fa un contratto, diciamo, preliminare per capire anche i costi che la persona può affrontare e niente. Queste sono le primissime cose. I tipi di sepoltura sostanzialmente sono tre. Chi ha la possibilità che ha un loculo, tranquillamente va tumulato nell'oculo. Purtroppo Castellana è una realtà dove i loculi non ce ne sono e in questo caso l'altra soluzione è l'inumazione, il classico sottoterra, come si usa a dire, o infine la cremazione. Cambia se va nell'oculo, la cassa deve essere corredata di cassa di zinco. Se va sottoterra, la cassa di zinco non va usata, assolutamente, e se va cremata lo stesso, la cassa di zinco non va usata. Queste poi incidono anche nel costo del servizio che viene fatto alla fine. C'è da sapere che per gentilizio locul privato si intende quei gentilizzi costruiti dalla famiglia, che in quel caso è privato. Allo scadere 60 anni la famiglia dovrebbe pagare solamente la concessione del suolo al comune, senza avere obbligo di poter o dover estumulare i propri cari che ci sono all'interno. Quello è gentilizio privato e una costruzione privata, mentre quelli che sono stati costruiti dalle confraternite, dei fondi che sono nei loculi confraternali o comunali, quelli hanno diritto a stare tumulati per 60 anni. I 60 anni partono da chi è morto oltre il 1977, mentre chi è deceduto prima del 1977 il loculo rimane perpetuo, perché prima del 1977 c'era la legge del perpetuo, tutti quanti acquistavano con il perpetuo. Mentre nel 1977 l'allora sindaco Don Marco Lanera con l'arcipietto Domincenzo Vitti cambiarono questo regolamento e appunto c'è i 60 anni. Altrimenti nessuno ad oggi li può toccare, se non è il comune che fa una legge per disposizioni, che manca lo spazio, che manca un'esigenza del comune, che non sono più perpetui praticamente. Mentre che è deceduta dal 1977, ripeto, sono 60 anni. A 60 anni la confraternita, sempre avvisando i familiari dei defundi con apposti cartelli un anno prima, provvedono all'estumulazione delle persone tumulate, concedendo loro un loculetto dove mettere i resti mortali, con varie diciture, nome, cognome, epigrafi, per essere sempre riconoscibili e dare ulteriormente degna sepoltura. Mentre per quanto riguarda l'inomazione, quando una persona non ha possibilità di loculi, la salma va inomata, appunto, va messa sotto terra e la permanenza in questo caso attualmente è di 9 anni. La legge precedente era di 10 anni, però per mancanza di posti il comune ha fatto questa ordinanza che a 9 anni vanno comunque esumate queste persone. Dopo fatta l'esumazione, praticamente, i resti mortali vanno messi in apposita cassettina di zinco con targhetta dove riporta tutti i dati del defunto e va conservato un ossario per la conservazione. Qualora non ci fossero disponibili ossari, c'è a disposizione l'ossario comunale dove vanno custodite queste cassette fino a disposizione di ossari per tumulazione definitiva. Qualora non ci fossero più eredi, i costi di questo servizio sono a carico del comune. Grazie Luigi, sei stato molto chiaro. Ora però vorremmo comprendere al meglio come avviene la cremazione e se la si può concordare prima. La cremazione sostanzialmente avviene che nel momento in cui la famiglia viene appunto in agenzia per esploitare tutta la parte burocratica, scegliere la bara e il tipo di tumulazione, su volontà del defunto anche del parente più prossimo viene fatta richiesta per la cremazione. Solitamente viene fatta nel più breve tempo possibile, ci affidiamo ai forni più vicini cremato, che sarebbe o Bari o Foggia. Ci sono tanti tipi di disinformazione soprattutto, che la gente mi chiede continuamente come avviene la cremazione, se la salma viene tolta dentro al cofano, dentro la vara, effettivamente se hanno loro poi le ceneri, se le ceneri sono quelle che anche del cofano fumo e della cassa, c'è una disinformazione generale. Volevo un attimino tranquillizzare tutti, perché quando una persona viene cremata, va cremata con tutta la cassa, con tutto il cofano, non viene assolutamente aperto. Il processo avviene sostanzialmente così, che la vara e il corpo della persona viene bruciata. Le ossa invece sono quelle che non si distruggono col fuoco, mentre vengono prese successivamente, vengono poi frantumate. Ciò che noi abbiamo sono le ossa e i resti mortali della persona nostra cara, sono le ossa, ceneri di Bari, tutte queste cose qua, non esiste niente. Noi abbiamo effettivamente le ceneri della persona. Tutte queste dicerie, questo non esiste nulla. È testimoniata questa accusa. Mentre c'è chi invita, vuole predisporre la propria cremazione, esiste un registro italiano delle cremazioni, che raccoglie tutte le volontà, è un testamento olografo praticamente. La mia agenzia è iscritta a questo registro cremazioni italiano. In Puglia ce ne sono cinque agenzie che aderiscono a questa iniziativa. La persona che si iscrive appunto al registro cremazioni esula tutti i familiari da disbrigopratiche successive. Immaginiamo persone che non hanno figli, che diventa un problema trovare la maggioranza degli eridi che devono firmare la volontà di cremazione e diventa sempre un problema più grande. Quando questa persona ha una sua volontà, i modi per esprimere questa volontà sono due. O si iscrive appunto al registro italiano delle cremazioni, o va da un notaio dove appunto fa questo testamento. Questo è un testamento vero e proprio. Vengo a precisare che appunto nel testamento olografo la persona può specificare di essere disperso in mare, in ambiente, in un terreno proprio o anche l'affidamento a un familiare, a una persona, a un'associazione. Per quanto poi riguarda l'affidamento personale, ci sono anche tanti tipi di urne che sono anche d'arrido, che non sono più il classico vasetto che contiene le ceneri, ma ci sono tante urne che sono d'arrido, che portano anche a non sembrare quella cosa macraba da tenere in casa, che una persona dice ho i resti di mio padre, di mia madre, di mio figlio, e anche un arrido superiore. Dunque il registro italiano cremazioni è molto importante da questo punto di vista, perché rispetta e tutela il diritto della persona. Grazie Luigi. Un'altra domanda dai nostri iscritti. Si possono lasciare gli oggetti personali del delfunto nella bara? E se no, perché? E poi una domanda mia personale a te, com'è cambiata la tua vita da quando fai questo lavoro? Gli oggetti personali assolutamente sì, anzi si mettono tanti di quegli oggetti, anche un esempio banale, i bambini mettono disegni alla propria nonna, sono cose che comunque sono ricordi che una persona porta con sé. Dunque la risposta è sì, assolutamente sì. Mentre per quanto riguarda la tua domanda personale, sì, la mia vita è cambiata notevolmente, questo mi ha fatto crescere come persona e professionalmente pure. Mi ha dato opportunità di vedere la vita sotto un altro aspetto, mi ha fatto, mi fa credere, ha avuto la consapevolezza che non siamo niente, di volerci bene perché comunque siamo tutti in un attimo, ora ci siamo, ora non ci siamo. Volerci bene, questo mi ha fatto anche essere più vicino alla gente. Quando lavoro, sono magari più, partecipo con loro al dolore, ma non è una questione che lo faccio pre-professione, ma purtroppo quando una persona ha subito un lutto, riesce a capire cosa si prova dall'altra parte e comunque per me diciamo diventa come una missione dare conforto alla famiglia, perché comunque capisco cosa stanno passando in quel momento, che sia una persona giovane che viene a mancare, una persona adulta, comunque chi subisce il lutto ha sempre un dolore che sta affrontando e lo dobbiamo rispettare al 100%. Per noi la persona che viene a mancare non è un numero, ma è una persona che viene a mancare, con un nome, un cognome, una sua storia. Chiunque essa sia merita il massimo rispetto, sempre. Questa è una cosa che dico anche ai miei collaboratori, perché ci tengo tanto. Ecco, la mia vita è cambiata proprio da questo punto di vista. Forse la parte umana, posso sembrare presuntuosa dire questo, ma mi sento proprio così, mi sento una persona più umana. Devo ringraziare proprio questo lavoro che mi ha fatto vedere da vicino la sofferenza. Anche quando si entra negli ospedali, si tocca con mano la sofferenza nelle case di riposo, tante persone anziane, e questo ti fa riflettere tanto. E magari invito anche qualcuno che ha un cuore un po' più indurito a farsi un giro nelle case di riposo o negli ospedali oncologici e vedere la trissere realtà della vita. Grazie a voi per questa opportunità che mi avete dato. Spero che sia stato chiaro. Un abbraccio a tutti e un saluto agli amici di Secchia in Puglia. Luigi, grazie mille per la tua spontaneità, delicatezza e tutti i chiarimenti. Sono stati molto importanti per tutti noi. Ringrazio anche i nostri iscritti per le domande e se ne avete altri dopo aver visto questo video, scriveteli nei commenti e Luigi poi vi risponderà. Condividete questo video anche con i vostri amici, parenti, conoscenti, perché anche loro devono essere consapevoli di questa realtà. e iscrivetevi al nostro canale ovviamente. Ma la cosa più bella e tutti la sapete a memoria è che, sai che, può interessare o coinvolgere anche te. Grazie a tutti.